Ciao a tutti amici di YouTube! In questo video vi riparlo di Wondershare Filmora, mostrandovi le novità dell'ultimo aggiornamento, ovvero la versione 10.5. Prima di cominciare vi invito a lasciare un bel mi piace per il supporto e iscrivervi al canale, attivando la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati su tutte le mie attività. Se qualcosa non vi torna nella spiegazione di oggi, desiderate qualche chiarimento o avete qualche dubbio in generale, contattatemi sul mio profilo personale Telegram. Lì, sono rapido a rispondere e anche sul tardi. Allora, per chi non lo conosce, è un programma che consente di elaborare video. Vabbè, potete anche modificarci solo immagini o audio, ma è stato soprattutto progettato per questo. Analizzando col tempo altri applicativi similari, mi sento di dire che Filmora è indirizzato particolarmente a chi non vuole il semplice e, allo stesso tempo, non vuole il difficile. Qui vi ho messo due esempi. Camtesia, che è veramente veloce, ma molto basilare. Premiere Pro, che per le mie esperienze è lento nell'azionare funzionalità, cioè occorrono più passaggi per applicare una determinata cosa. Però è professionale, permette di fare tutto, insomma. È completo. Il protagonista di questo video è in mezzo, accessibile a molte persone, non richiede conoscenze particolari. Ci sono anche delle funzioni più specifiche, dove l'utente più addestrato, passatemi il termine, può sbizzarrirsi con tantissimi parametri mesi a disposizione. Penso alla modifica del colore. Gratuito e a pagamento. Con la prima modalità avete tutte le funzionalità, ma una volta arrivati alla conclusione del progetto, quindi l'esportazione, viene messo in primo piano un banner che sponsorizza il prodotto. Per rimuoverlo occorre naturalmente passare alla versione a pagamento. Ci sono vari piani a prezzi decisamente vantaggiosi rispetto a dei suoi concorrenti. Fate conto che avete incluso per un periodo anche il servizio Filmstock, che è una libreria di contenuti da aggiungere al progetto, come icone, musica, transizioni, ecc. Se siete studenti, tirocinanti o insegnanti verificabili, ottenete il 20% di sconto. Infatti, il piano annuale vi si riduce a 31,99€. Va bene, vado al sodo. Ecco l'installazione. Qualche secondo, ed è pronto. Su disco, in Windows, pesa 833 MB ed è una dimensione abbastanza giusta. Ricordo che gira anche su macOS. Appena avviato, in automatico, inizia una guida rapida su come si utilizza il programma. Da questi passaggi potete intuire che è davvero semplice usarlo. Non occorre che siate video maker, come anticipato prima. Non vi mostro nel dettaglio ogni singola funzione, altrimenti il video dura un'eternità. Al limite, sono stati fatti altri due video dedicati, perciò vi invito a visualizzarli. Link in descrizione. Bando le ciance, elenco le novità di questa versione. Adesso si può usare film stock senza uscire da film ora. Autoriformulazione. Recreo lo stesso video in diverse proporzioni. Ottimo per chi produce su più social. Nuovi effetti audio, video. Eco, riverbero e telefono. Evidenziazione automatica. Cattura i momenti migliori dalle clip. Portrait con intelligenza artificiale. Adesso è possibile far rimuovere gli sfondi con relativi effetti per migliorare la scena. Funzionalità che apprezzo moltissimo, perché spesso mi ritrovo in luoghi poco consoni a quello che faccio e rimuovere appunto degli sfondi spiacevoli è la mia salvezza. Adesivi AR. Immagino sia per realtà aumentata. E semplicemente ora posso aggiungere degli adesivi, delle icone, se vogliamo metterla in questa maniera, che seguono il movimento del volto, quindi animati al cento per cento. Normalizzazione dell'audio. Funzionalità che non ne ho mai avuto bisogno, ma di certo per molti può essere utile. Beh, che ne pensate di questo film ora? Io l'ho usato per decine e decine di video, non solo per il mio canale. Ancora tutt'oggi lo preferisco a Premiere Pro perché mi consente di andare più rapido nella progettazione, soprattutto per quando devo semplicemente catturare schermate e mettere in primo piano immagini fisse. Naturalmente questo video è stato realizzato con film ora, spero che l'abbiate capito. In descrizione trovate il link che rimanda al sito ufficiale di Wondershare. Se posso permettermi, spero di vedere in futuro un'applicazione mobile per smartphone e tablet, così da allargare le esigenze di tutti noi. A presto!